Voglio andarci. Dove? A Cielo. Tanto se adesso qui non cambiamo. Perché se ci vai... Se ci vanno si carreranno addosso. Tommaso lo sta andando a scuola. Perché? Voglio non bocciarlo. Dopodomani è il mio compleanno. E quindi? Sai di cosa vorrei? Non me ne frega un cazzo il mio compleanno. Vorrei che prima notte cenassimo tutti insieme, guarda un po'. Certo. Così mentre ceniamo papà e mamma ti coprono dei videogiochi nuovi. E da quando ti sei messo fare l'artista? Da quando è il tuo culo? Da quando è il miei colori! Allora no, no. Sì, tu li puoi! Se ho le cose da zero, ve lo ricalco da altri disegni. Peccato che papà incorniciava i miei. Prima controllo tutti i miei uno. Se quadrano nella casella, nella riga e nella colonna. Due nella casella, nella riga e nella colonna. Tre cose via, fino a dar ripare a di loro. Ascolta, Tommaso, tu devi parlarmi di più di queste cose. Perché se tu non me ne parli e ti chiudi, io come faccio ad aiutarti? E lo stesso modo di impegno da domani. Dai tu, chi vuoi che sia? Come stai? Così? Cioè? Libero. Ciao! Ciao!